Salve a tutti, in questo video vediamo come espandere il nostro inventario su Stardew Valley. Effettivamente il problema iniziale è quello che abbiamo troppi pochi spazi, 12 per l'esattezza, per raccogliere i nostri oggetti. E consiglio a tutti di espanderlo il prima possibile non appena trovate 2000 monete d'oro. Basta andare qua da Pierre in città e non dobbiamo parlare con lui perché qua non troverete niente, ma dobbiamo andare qua a destra dove c'è lo zaino. Quindi dobbiamo interagire con lo zaino, acquista 2000 d'oro, avremo uno zaino da 24 scomparti ed eccolo qua. Più avanti possiamo tornare qua, quando abbiamo più soldi, ed espandere ulteriormente il nostro inventario. Vi faccio vedere, allora adesso abbiamo questa fila in più, per avere anche la terza fila basta andare qua, acquista ora 10.000 d'oro e avremo lo zaino massimo da 36 scomparti. Su PC si può intercambiare con il tasto tab, è possibile vedere le varie linee. Quindi investimento da fare al più presto anche per accogliere numerosi oggetti che poi venderemo. Un saluto a tutti!